marcus vide la strada di fronte a sé farsi sempre più scura il cuore tambureggiava nel suo petto senza sosta mentre cercava di rimanere concentrato e lucido con scarsi risultati le sue mani erano talmente strette al volante che avevano quasi perso sensibilità il formicoglio alle braccia raccuito da quella posizione tenuta ormai da alcuni chilometri dall'ultima svolta che aveva effettuato dopo di allora l'auto che guidava era stata inghiottita da un lunghissimo rettifilo che lo stava portando in un luogo a lui ignoto ma che a breve sarebbe stato svelato assieme a tutti i dettagli di quella folle gita fuori porta i suoi respiri lenti e profondi facevano trasparire una collera controllata a stento ma anche un evidente timore che in nessun modo sarebbe riuscito a nascondere ma la paura non scaturiva tanto dal freddo acciaio della pistola che l'uomo seduto di fianco a lui gli stava puntando quanto dal non sapere dove fossero diretti e soprattutto cosa ne avesse fatto di jennifer erano ormai diverse ore che non aveva più alcuna notizia di lei quel pomeriggio quando per la terza volta l'aveva chiamata e per la terza volta si era attivata la segreteria una sensazione di malessere si era improvvisamente impadronita di lui sentiva che fosse accaduto qualcosa ed aveva ragione la chiamata di richard madison era giunta alle 18 in punto non sapeva come avesse avuto il suo numero di telefono ma madison era un uomo dalle mille risorse la cosa non lo stupì così come capì immediatamente che quella chiamata fosse da collegare alle mancate risposte di jennifer era rimasto in silenzio attendendo che gli desse delle spiegazioni ma in vano poi lo aveva insultato intimandogli di dirgli cosa volesse da lui e minacciando che lo avrebbe ucciso se soltanto gli avesse torto un capello la risata di richard madison però mise subito in chiaro che marcus non fosse nelle condizioni di minacciare nessuno e lui lo sapeva ma trattenere la rabbia non era mai stata una delle sue doti migliori aveva respirato profondamente aspettando una qualsiasi parola attimi di tensione che nella sua testa durarono un'eternità fino al momento in cui madison aveva rotto finalmente quel silenzio sadico con una semplice richiesta caro marcus dobbiamo andare a fare un giro io e te soli è così che il loro viaggio aveva avuto inizio recandosi all'appuntamento di fronte al cosmopolitan hotel poco lontano dal municipio centrale marcus sapeva che avrebbe corso dei rischi enormi la sua stessa vita sarebbe stata in gioco ma rispettò scrupolosamente le istruzioni impartite gli perché quella di jennifer era nelle sue mani ammesso che non fosse già troppo tardi ma questo marcus non poteva saperlo quindi semplicemente obbedì si recò solo sul posto e lo stabilito niente amici né polizia ovviamente madison era stato molto chiaro al telefono se tieni a lei e so che ci tieni farai come ti dico quando marcus vide una chevrolet camaro accostare lentamente proprio di fronte a lui capì che il momento era arrivato nessuno uscì dal lato del passeggero ma il ghigno di madison fu ben visibile dal finestrino laterale quello che doveva essere uno dei suoi numerosi tirapiedi scese dall'altra parte lo perquisì sequestrandogli il cellulare ed appurato che non avesse armi registratori o altre cose strane addosso gli lanciò uno sguardo truce rivolgendogli una sola parola che assomigliava molto ad un ordine guida e così marcus si era messo al volante lasciando quell'energumeno sul marciapiede l'uomo li guardò allontanarsi lungo la fairgold avenue fino a quando l'auto sparì dalla sua vista non appena sedutosi sul lato del guidatore marcus aveva fatto subito la conoscenza della birretta 92 di madison una precauzione doverosa tanto per assicurarsi che non facesse scherzi ed eseguisse alla lettera le sue indicazioni che furono del tutto simili a quelle del suo tirapiedi poche svolte prima di imboccare la provincia di 86 che proseguiva per diversi chilometri fino al confine ma non erano diretti fuori dallo stato lungo quella sconfinata distesa di asfalto circondata da una fitta vegetazione su entrambi i lati c'era un punto preciso dove si sarebbero fermati e marcus lo comprese quando attraverso la fioca luce dei fari che tentavano disperatamente di squarciare l'oscurità tutto intorno vide un'auto parcheggiata sul lato della strada le parole di madison furono immediate e non giunsero inaspettate accosta qui scesero entrambi dalla camaro e marcus si guardò intorno per quanto lo scurità glielo consentisse vide altri due scagnozzi di madison uno dei quali era seduto sul sedile posteriore intento a cambiarsi pantaloni e scarpe l'altro lo aveva già fatto dal momento che vicino all'auto c'erano degli indumenti sporchi di terra ed una pala che marcus fissò intensamente con un brivido lungo la schiena erano stati probabilmente loro a chiamare madison durante il tragitto una telefonata che aveva interrotto un silenzio fatto di tensione e paura tutto fatto queste erano state le sue uniche parole e dall'espressione soddisfatta marcus aveva compreso che la risposta dovesse essere stata affermativa i suoi pensieri vennero bruscamente interrotti dalla voce ostile del suo compagno di viaggio che come al solito non gli fece presagire nulla di buono andiamo a fare due passi si sta facendo tardi ormai non c'era più spazio per i ripensamenti e la pistola che madison continuava a puntarli addosso non avrebbe comunque lasciato alternative mentre i due uomini presenti sul posto risalirono in auto e ripresero la strada che li avrebbe riportato in città marcus e madison si incamminarono nell'oscurità del bosco non fu però una lunga passeggiata ben presto si ritrovarono in un'area non molto estesa dove la vegetazione era meno fitta e marcus poteva intravedere qualcosa nel buio profondo della macchia che però divenne chiaro soltanto quando l'uomo al suo fianco afferrò una torcia lasciata a terra ed illuminò lo spazio davanti a loro marcus trasali c'erano sei croci a poca distanza l'una dall'altra e di fronte ad esse terra smossa a suggellare l'orrore di un quadro inaspettato cosa diavolo significa il suo sguardo trafisse madison che nel frattempo aveva riposto la pistola e con estrema calma facendo ondeggiare la torcia si era acceso una sigaretta respirandola come fosse la prima che fumava da anni si stava gustando quel momento così intensamente che già si rammaricava del fatto che a breve sarebbe terminato non doveva dire molte parole ma sperò di usare quelle giuste d'altronde era uno degli uomini più ricchi e potenti della città ed il solo pensiero che un inutile don giovanni si fosse sollazzato per mesi con sua moglie jennifer lo mandava fuori di testa aveva scoperto la loro relazione qualche settimana prima ed il suo unico pensiero era stato di farlo fuori in qualche modo un uomo come lui con i suoi agganci e le sue protezioni non avrebbe avuto alcun problema nel far sparire un maestro di tennis da quattro soldi alla punizione per sua moglie avrebbe pensato poi ma attraverso i suoi canali informativi e due dei migliori investigatori privati su piazza aveva scoperto una cosa ancora più sconvolgente non si trattava di sesso trasgressione o divertimento no i due piccioncini erano davvero innamorati e questo era ancora più intollerabile la morte sarebbe stata una soluzione troppo immediata e priva della poesia che un così grande amore avrebbe meritato quindi aveva pensato a qualcosa di molto più particolare per loro e di certo più soddisfacente per lui dobbiamo fare un gioco marcus un gioco equo vedi tu hai rubato il cuore di mia moglie non è stato un bel gesto da parte tua quindi me lo devi anche se non credo tu abbia scelta madison tirò un'ulteriore boccata una nuvola di fumo circondò il suo volto e marcus in quel momento sembrò pendere dalle sue labbra facciamo in fretta il tempo è prezioso presta molta attenzione alle mie parole perché non mi ripeterò vedi quelle sei croci sotto ognuna di esse c'è una bara e qui come puoi vedere uno dei miei assistenti ha lasciato una pala per te marcus impallidi jennifer è sepolta sotto una croce i due simpatici ragazzoni che hai visto andare via poco fa l'hanno sedata e seppellita da poco se sei fortunato potrai salvarla in caso contrario dovrai essere molto veloce ma non so se potrai esserlo abbastanza il gioco può finire in due modi le salvi la vita e vivrete per sempre felici e contenti oppure beh ci siamo capiti no marcus lo fissò con occhi iniettati d'odio tu sei pazzo dimmi dov'è brutto figlio di il tempo stringe madison prese la pala e gliela tirò ai piedi scava tuco per un attimo marcus fu tentato di spaccargli il cranio e rimanere a guardare il cervello collare dalla ferita ma se jennifer era davvero stata seppellita sotto una di quelle croci gli rimaneva pochissimo tempo quanto può resistere una persona sepolta viva un paio d'ore magari di più inutile fare supposizioni in quanto non ne aveva la minima idea e l'unica cosa che la testa e il cuore gli suggerirono fu di prendere la pala e di iniziare a scavare madison lo osservò per alcuni istanti soddisfatto poi decise che non avrebbe assistito allo spettacolo completo sarebbe stato meglio immaginarlo prima di andarsene rivolse le ultime parole a marcus intento a scavare sotto una delle croci che aveva scelto casualmente ricorda comunque vada niente polizia sai chi sono io e saprai anche che conosco tutti i membri della tua famiglia spero di essere stato chiaro detto questo uscì dal bosco risalendo sulla camaro che li aveva portati lì e si diresse verso casa marcus aveva udito le sue ultime parole ma in quel momento non pensava né alla polizia né alla sua famiglia era completamente sopraffatto dal pensiero di jennifer sepolta a pochi metri da lui vide il suo sorriso in ogni zolla di terra che volava via e la sua voce rimbalzò tra gli alberi confondendosi con il bubolare di un gufo poco lontano passarono ancora diversi minuti che non riuscì a quantificare sopraffatto dall'adrenalina e dalla paura poi la pala toccò qualcosa ben presto la bara sotto la croce fu esposta e marcus l'aprì a fatica infilando la parte anteriore dell'attrezzo nella fessura e facendo leva il vuoto all'interno fu riempito dalla sua disperazione ansimante spostò lo sguardo alla sua destra dove altre croci lo attendevano non c'era tempo per piangere né per maledire richard madison forse non c'era più tempo neppure per scavare ma era l'unica cosa che potesse fare in quel momento e marcus scavò seduto alla sua scrivania in una stanza troppo grande di una villa che lo era altrettanto richard madison fissava la finestra che dava verso sud ormai da un'ora non c'era nulla di interessante da quelle parti avrebbe potuto guardare un muro il pavimento di certo non sarebbe riuscito a concentrarsi sui documenti che il suo fiscalista gli aveva portato il giorno precedente e che erano sparsi senza un preciso ordine sul legno liscio della scrivania di fronte a lui erano ormai le 8 del mattino e non aveva ancora fatto colazione due enormi borse nere appesantivano i suoi occhi in quanto non era riuscito a dormire neppure un po non per il posto vuoto di fianco a sé né per rimorsi o preoccupazioni era l'eccitazione la causa di tutto un fermento che dalla notte precedente non l'aveva abbandonato neppure per un istante d'altronde il gioco non era ancora finito sarebbe rimasto in attesa per buona parte della mattinata poi finalmente sentì bussare alla porta dalla quale entrò uno dei suoi faccendieri il quale pronunciò le parole che madison aveva atteso fino ad allora lui è qui gli dei ordine di farlo salire assieme a jim la sua guardia del corpo personale che l'aveva accompagnato di fronte al cosmopolitan hotel la notte precedente quando marcus entrò nella stanza madison lo scrutò dalla testa ai piedi vedendolo ridotto esattamente come aveva immaginato e sperato distrutto dalla fatica e rabbioso come una belva appena uscita dalla gabbia talmente sporco di terra da far sembrare che fosse stato lui ad essere sepolto vivo e senza bara dov'è chiese marcus digrignando i denti madison esplosi in una risata fragorosa non aveva dubitato neppure per un istante che avrebbe scavato tutte e sei le fosse ed aperto ogni singola bara purtroppo però c'era qualcosa che mancava a quel meraviglioso dipinto da lui commissionato qualcosa che purtroppo non avrebbe mai potuto vedere l'espressione disperata di marcus ad ogni tentativo fallito e quella di stupore misto a collera dopo aver aperto l'ultima ma l'uomo che in quel momento aveva di fronte col volto ruvido e gli occhi che bruciavano di una furia contenuta stento gli fornì quanto meno un resoconto accettabile dell'orribile nottata passata madison si alzò e dalla sua schivania si diresse lentamente verso di lui avendo cura di non avvicinarsi troppo nonostante la presenza di jim lo mettesse a sicuro da qualunque strana idea potesse venire in mente a quell'uomo ridotto ormai uno straccio non abbastanza però non ancora almeno madison sospirò con aria di sufficienza prima di raccontargli una storia che marcus difficilmente avrebbe dimenticato vedo che ti sei dato da fare ma la tua domanda ho già risposto ricordi forse avresti dovuto prestare maggiore attenzione le mie parole come ti avevo detto jim a quel punto fu costretto ad immobilizzare marcus tenendolo stretto a sé come si tiene un cane al guinzaglio quando decide di volersi allontanare troppo ti ammazzerò brutto stronzo dimmi che cosa le hai fatto il marito della sua amata guardò fuori dalla finestra sospirando ritenne di essersi divertito ormai abbastanza era un tipo che si annoiava molto facilmente e si stupì di come fosse riuscito a tirare quella storia così per le lunghe si mosse verso marcus ancora trattenuto da jim arrivando fino ad un palmo dal suo viso e premurandosi di guardarlo dritto negli occhi gli rivelò la parte finale del gioco te lo ripeto marcus avresti dovuto prestare maggiore attenzione alle mie parole ti ho detto che jennifer era sepolta sotto una croce non ho mica specificato che fosse una di quelle sei che avevi davanti è un vero peccato sai la tomba di jennifer non era molto lontana poche decine di metri più avanti forse ti sarebbe bastato fare luce con la torcia analizzare lo scenario nel suo complesso e saresti riuscito a vederla in quel caso non credo avresti perso ore a scavare sei inutili buche per scovare sei bare vuote improvvisamente la rabbia di marcus lasciò spazio allo shock le gambe gli cedettero e cade sulle ginocchia come uno scolaro in punizione di fronte al suo perfido maestro tentò di convincersi che fosse tutta una messa in scena e che ben presto jennifer sarebbe entrata da quella porta bella e sorridente come suo solito ma fu tutto inutile perché sapeva che madison fosse in grado di fare una cosa del genere e quanto gli avrebbe detto di lì a poco sarebbe stata un'ulteriore conferma lo sapeva sin dalla notte precedente quando non dubitò per un attimo che fosse stato capace di far seppellire viva la sua moglie purtroppo però aveva vinto lui marcus aveva subito diverse sconfitte durante la sua breve carriera di tennista ma quella era stata di certo la più amara jennifer era sottoterra a pochi metri da lui mentre scavava disperatamente ansimando ed imprecando come mai in vita sua ed era morta proprio mentre scavava la seconda fossa la terza oppure aveva resistito fino alla sesta non importava più ormai la settima tomba era ancora in quel bosco immacolata ed intatta giaciglio indesiderato della donna che amava madison l'osservò con sadico distacco ancora per un po poi riprese a parlare perché doveva ancora raccontargli come sarebbe finita quella storia povero marcus devo darti atto che hai recitato il tuo ruolo alla perfezione esattamente come avevo pensato hai scavato fino allo sfinimento ti sei imbrattato di terra e rovinato le mani immagino tu abbia anche lasciato la pala con le tue impronte vicino alle fosse poi sei tornato qui non c'è che dire hai fatto tutto quello che dovevi ora lascia che ti dica come finisce il film perché la tua parte è terminata almeno quella attiva i miei due uomini quelli che hai visto ieri sera sono appena partiti per recarsi di nuovo sul posto e rimettere un po in ordine visto il disastro che avrei combinato tempo un paio d'ore non vi saranno più né fosse né croci né bare a parte una ovviamente nel frattempo il nostro caro jim ti accompagnerà a casa tua con la tua auto che se fossi stato un po più attento avresti notato qui fuori madison aveva programmato tutto nei minimi dettagli l'auto di marcus era stata prelevata di fronte al cosmopolitan hotel mentre una delle sue si trovava poco lontano dall'appartamento dell'uomo jim lo avrebbe riaccompagnato a casa senza dare nell'occhio fin dentro al garage lì avrebbe poi inscenato il suicidio di marcus tornando poi alla vila di madison con l'auto in dotazione che avrebbe recuperato sarebbe stato un caso molto semplice per la polizia un classico se vogliamo lei che vuole liberarsi del suo amante dicendogli che non devono più vedersi e che è stato tutto un grosso errore perché ama ancora suo marito ovviamente lui che impazzisce compiendo un atroce delitto e togliendosi poi la vita in casa propria ancora sporco ed obberato dalle nefandezze compiute per quanto riguarda i dettagli naturalmente madison aveva pensato a tutto jim avrebbe dovuto far sparire i loro telefoni ed evitare di lasciare impronte in giro cosa la quale comunque era abituato un caso così semplice che la polizia non si sarebbe neppure presa la briga di indagare a fondo o dare eccessivo risalto alla vicenda d'altronde richard madison era una delle persone più ricche di invista della città anche un benefattore divulgare troppi dettagli sul fatto che la moglie se la facesse col suo maestro di tennis non sarebbe stato carino nei suoi confronti insomma tutta quella faccenda sarebbe divenuta una stucchevole pratica da chiudere in fretta la cosa più difficile per madison sarebbe stata quella di fingersi disperato al ritrovamento del cadavere della sua amata moglie anche un'altra cosa l'aveva lasciato dubbioso ed indeciso la modalità con la quale marcus avrebbe dovuto togliersi la vita si sarebbe riempito di barbiturici oppure impiccato in bagno tante idee gli erano passate per la testa ma alla fine si era reso conto che una valesse l'altra perché purtroppo non avrebbe potuto assistere alla scena e per questo invidiava molto jim cosa non si fa per amore furono queste le parole con le quali madison congedò il suo ospite che venne trascinato via dal suo studio come un sacco di grano prima di essere allontanato bofonchiò qualcosa di non molto comprensibile non rinuncerò ce la farò o più probabilmente io ti ucciderò ma madison non gli chiese di ripeterlo ormai il suo fastidio era più concentrato sulla moquette da ripulire che non su quella vicenda prese la bottiglia di scotch che teneva sulla scrivania e se ne versò un bicchiere avvicinandosi alla finestra dalla quale vide l'auto di marcus uscire dal cancello ed allontanarsi dalla sua proprietà il lagavulin invecchiato 16 anni aveva un sapore quasi dolciastro quella mattina lo gustò fino in fondo prima di chiamare la cucina per farsi portare finalmente la colazione e rimettersi al tavolo dove lo attendeva una copiosa pila di documenti fiscali gli sarebbero serviti per ingannare il tempo prima di chiamare la polizia e denunciare la scomparsa di sua moglie quella notte non era rientrata in casa ed era un fatto piuttosto inusuale per lei nessuna delle sue amiche contattate in mattinata l'aveva vista ne sapeva nulla di dove potesse essersi cacciata chissà forse aveva deciso di prolungare le sue lezioni private non c'era molto da stare tranquilli perché anche se non può sembrare il tennis è uno sport molto pericoloso al prossimo episodio Grazie a tutti.